Si dava un appuntamento telefonico per scambiarsi prodotti agroalimentari e bestiame e invece stavano portando avanti un traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Otto cittadini italiani, tutti pregiudicati, tre dei quali di Carrara e i rimanenti della provincia di Varese, facevano base sulle colline di Bonascola per vendere cocaina e cannabinoidi anche tra Trapani, Enna e Cosenza. La merce arrivava nel magazzino di Romeo Giuntoni, titolare di una nota azienda agricola del Carrarese, che faceva in sostanza da grossista ed era capo del sodalizio criminale smascherato dagli oltre 40 agenti della questura di massa e del commissariato di Carrara, che hanno preso parte all'operazione di ricerca e cattura denominata Manina, in riferimento a un difetto fisico dell'uomo. L'indagine ha impegnato i reparti della squadra mobile e quelli del commissariato di Carrara per circa un anno ed è nata da una segnalazione di un presunto spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della nostra provincia. Determinanti nell'indagine durata oltre un anno, intercettazioni telefoniche, squadra cinofila e soprattutto l'impiego di una videocamera posizionata nei pressi della masseria adibita a magazzino per le sostanze stupefacenti. È stato deciso di posizionare una speciale telecamera di infrarossi che ha potuto monitorare i comportamenti e soprattutto i passaggi delle persone oggetto dell'indagine in quella zona. I criminali si spostavano con un sistema staffetta e parlavano di compravendita di salsicce e galline quando si riferivano a dosi di cocaina destinate al piccolo mercato. A fare insospettire la polizia, banali imprecisioni nelle conversazioni tra i criminali. Per gli agenti non è stato difficile intuire qualcosa sentendo parlare per esempio di triglie nelle stalle in alcune di queste conversazioni in codice. Attualmente detenuti nei carceri di Massa, Varese, Monza, Livorno e Busso Arsizio, i sette raggiunti dalle ordinanze di custodia cautelare, ancora in libertà un'ottava persona.